Cinque comuni, lo sguardo rivolto all'Europa, tutti insieme per intercettare fondi nazionali ma soprattutto europei nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile. Infatti operativo dai primi di luglio l'ufficio unico per la programmazione e la progettazione dei comuni del bacino del Feltrino e della costa dei Trabocchi, che unisce il comune di San Vito, Capofila, con Frisa, Treglio, Rocca San Giovanni e Fossa Cesia. Ai cinque enti la regione ha concesso un finanziamento di 70.000 euro per la gestione dell'ufficio sovracomunale. Due qualificati europrogettisti avranno il compito di progettare e accedere a finanziamenti comunitari, nazionali, regionali per incrementare le risorse e sviluppare il territorio dal punto di vista storico, ambientale, naturalistico, sociale, economico e culturale. Il sindaco di San Vito, Emiliano Bozzelli. Finalmente, dopo una selezione che è durata qualche mese, l'ufficio operativo. Abbiamo individuato i due esperti come da progetto e come da bando poi pubblicato, un esperto senior e uno junior. Al servizio dei cittadini indirettamente, perché presteranno i loro servizi ai comuni direttamente, che sono coinvolti in questo progetto, come abbiamo già detto in un'altra intervista, San Vito Chietino che è capofila, Frisa, Treglio, Fossa Cesia e Rocca San Giovanni. L'ufficio ha sede a San Vito presso il municipio, dove operano due esperti selezionati con dei bandi. L'iniziativa è della durata di due anni, con possibilità di proroga. Lorenzo Rossi e Sara Rulli. A seguito di una carenza di specializzazione nella progettazione, quindi nel corretto utilizzo di questi fondi, spesso gli enti che partecipano o non riescono proprio a superare la fase di selezione, oppure non riescono neanche a rendicontare quei finanziamenti che poi vengono accordati. Quindi ci auguriamo che l'ufficio unico possa essere uno strumento utile sia per i singoli comuni, ma anche per la collettività. Cosa molto interessante sarà quella della messa online a brevissimo di un sito internet dedicato all'ufficio unico, dove sarà possibile per tutti i cittadini sia vedere che cosa fa l'Unione Europea per tutti noi, vedere quali sono le possibilità aperte ai singoli individui, alle imprese e vedere che cosa con i comuni noi stiamo mettendo poi in atto.